Siamo... Mia! Emma! Lucy! Sofì! Insieme viaggeremo per tutto il mondo! Siamo le... Trottis Trottis! Pinky Promise! Sbrigatevi! La mappa magica ci sta avvisando! Dobbiamo vedere cosa succede e dove! Noooo! Mio troll! La Scozia ha bisogno di noi! Se siete pronte, ripetete con me! Ovunque, ovunque, andremo! Peeky Promise ci guiderà! Noooo! Che meraviglia! Questo è il lago Ness della Scozia! Lo sapete? Secondo la leggenda vive un mostro molto grande! Il mostro di Loch Ness! Una leggenda! Una realtà! Ecco, questo è il mostro di Loch Ness! Dicono di averlo visto vicino alla riva e danno una ricompensa a chi lo cattura! Noooo! Oh no! Poverino! Noooo! E' reale! Lo sapevo! Tranquilla, Sofì! E' un mostro buono e dobbiamo andare ad aiutarlo! Se l'hanno visto è perché si è disorientato! Io e Mel andremo a cercarlo e nessuno potrà vederci! A proposito, Mel non è venuta con noi? Mel! Mel! Scusa mia! Non sapevo che la paura mi rendesse invisibile! Andiamo! In questo modo saremo collegate! Era ora! Eravamo preoccupate! Dove eravate? Stavamo cercando il mostro! La mappa magica ci ha portato da lui ma c'erano molti giornalisti che cercavano di fotografarlo e abbiamo dovuto aspettare che se ne andassero! E grazie al cielo gli siamo piaciuti e ha deciso di venire a conoscerci! Poverino! Sembra triste e sta... Wow! Dobbiamo aiutarlo a nascondersi! Non è più al sicuro in questo lago! E se lo lasciassimo lì? Come? Un momento! Lasciate che mi spieghi! Non è ora che questo mostro smetta di nascondersi? Perché non lo mostriamo al mondo che è buono? Beh, Lucy! Chi crederà alla storia che un mostro è buono quando dovrebbe essere fattivo? E per di più raccontata da un gruppo di bambole che non dovrebbero essere in grado di parlare! Pazienza! Dobbiamo solo registrare un video in cui il mostro salva qualcuno per mostrare la sua gentilezza e poi pubblicarlo su T-Plot! A chi va di fare un tuffo? Ho capito! Tireremo sorte! Emma! Pronti! Partenza! Via! Stop! Emma! Vuoi aggiungere un po' di drammaticità? Nessuno verrà a salvarti in questo modo! Guarda! Devi fare così! Forza, Emma! Vediamo come te la cavi adesso! Pronti! Partenza! Via! Aiuto! Ah! 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 Forza, i luci stanno arrivando! Un aggiornamento ora, no! Devo far arrivare il video a tutti i vicini subito! Non è facile! Vediamo! Perfetto! Finalmente è finita! Oh! È un mostro buono! Sì! Ha salvato quella bambina senza pensarci! E volevamo rinchiuderlo! D'ora in poi sarà nostro amico e ci proteggerà! Bene! Bene ciò che passa! Non posso crederci! Mamma, un giorno puoi portarmi in Scozia con il tuo aereo? Il mostro dell'Ognis esiste ed è buono! Ha salvato una bambina! A proposito, questa bambina mi è molto familiare! Siamo! Trappi! 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 Limpi! Bravi!